Lo sport è sempre stato e rimane un grande ambasciatore del sociale, ogni problema che riguarda la comunità viene affidata generalmente a un mezzo e credo che quello dello sport sia il più nobile dei mezzi, qui si incontrano persone di qualunque ceto sociale, di qualunque lingua, di qualunque religione, di qualunque cultura. Lo sport è un contenitore straordinario e quindi affidare allo sport il messaggio di contribuire alla lotta contro i tumori è una cosa veramente nobile che fa onore agli organizzatori. Naturalmente bisogna lavorare costantemente come fanno associazioni come la Lilt, bisogna lavorare ogni giorno senza far mancare l'affetto, senza far mancare la cordialità a coloro che stanno male. Questo è il grande messaggio che proviene.